Un saluto dall'ATG della mobilità. Sono stati completati i lavori sulla ferrovia Romalido dove un guasto aveva provocato la parziale interruzione del servizio. I treni della Romalido sono quindi tornati a viaggiare lungo tutto il percorso tra Porta San Paolo e Colombo. E sono terminati anche i lavori di riqualificazione sul ponte della Magliana. Sul viadotto della Magliana è stata quindi riaperta anche la carreggiata in direzione dell'Eur. Ripristinati i percorsi delle linee di bus 31 e 771, riattivata la 780. Infine, zone a traffico limitato. Ancora per la giornata di oggi i varchi delle ZTL sono disattivati.